Sono Paola Saluzzi, questa sera premiata, questo è il regalo di Natale quest'anno, con il premio dedicato a Vincenzo Crocitti. Spettatrice, è così che come tutti io ho imparato ad amare Vincenzo, fortunata conduttrice di una serata che era il premio Sordi, non chiedetemi di quanti anni fa, ma so che ad un certo punto, era previsto in scaletta, c'era un problema, non mi ricordo se fosse il traffico o quant'altro, lui arrivò, arrivò un po' in ritardo, scusandosi di quel ritardo, io mi trovavo davanti proprio lui ed ero contentissima di avere Vincenzo Crocitti al fianco. Poi mi resi conto di avere non soltanto un grande attore, ma di avere accanto una persona meravigliosa e non si dice questo perché Vincenzo non c'è più, quanto lo vorremmo avere qui, lo sappiamo, ma dico questo per indicare e sottolineare ancora una volta la qualità di quest'uomo, che era la grazia personale. Quando poi doveva metterla dentro ai suoi personaggi, quando poi doveva inserirla all'interno della sua recitazione, lui sapeva farlo, ma io ricordo questa persona dolcissima, cara, buona, che seppe conquistare in un istante, e ben oltre il premio che gli venne consegnato, tutta quanta alla platea. Quindi stasera mi ritengo onoratissima di questo premio, molto, molto contenta. Onestamente non so se io lo meriti, però se hanno deciso di affidarmelo e di affibbiarmelo, come direbbero la romana, siamo qua. Grazie.